Buonasera a tutti, ben ritrovati all'Agendina. Questo è l'ultimo, ma non ultimo, dei candidati alla corsa per Palazzo d'Aronco, qui a Udine. Andrea Valcic, patto per l'autonomia. Buonasera Andrea. Buonasera Alberto. Parliamo di questa nostra città, che è città della morte. Voi là, ha fatto scalpore evidentemente la frase di qualcuno. Dal resto era una posizione che aveva già preso in precedenza l'ex presidente della ex provincia. È una posizione che certamente non si può condividere, però nonostante il fatto della non condivisione, bisogna anche dire che il sindaco Onsel e la sua giunta di un fatto tragico, su cui io personalmente scrissi in quel periodo, era meglio spegnere i riflettori e lasciare un momento tragico nella vita di una famiglia, di una persona, ad ognuno quel silenzio necessario che accompagna queste situazioni tragiche. Ho capito. Il sindaco Onsel che in qualche modo ha reso ideologico un fatto che invece andava a trattare... Ma lei è particolarmente simpatico, il sindaco Onsel, mi fari capire. Ma io, a dire la verità, ho sempre avuto un buon rapporto con il sindaco Onsel, specialmente nella sua prima tornata elettorale. Poi l'ho visto distante e preoccupato quasi esclusivamente del suo destino personale, poco interessato e non sensibile a quello che stava montando in città. Torniamo alla città. Sì. La città dei profughi cinesi. Dei profughi cinesi. Ah, continuiamo sulle provocazioni dal punto... Mi ha chiesto un'intervista fuori dagli schemi. Allora, il titolo sarà Lanterna Magica. Io sono sempre stato convinto del valore del Far East Film, espresso più volte a chi l'ha organizzato, che ha dato certamente lustro e immagine alla nostra città. Bisogna dire però ancora una cosa, che mentre valutiamo positivamente la mostra del cinema orientale o anche manifestazioni come Vicino o Lontano, il problema però è fermarsi un attimino e pensare che non possono essere solo due manifestazioni a rendere viva la città, soprattutto manifestazioni che durano il tempo che durano e lasciano poco segno sulla città. Tenendo conto, se mi permetti, anche qui tutta la mia solidarietà al Far East, che contemporaneamente in Italia stanno nascendo copiature di questo festival. Ho capito, ma io volevo portarla su un terreno scivoloso, che era la questione dei profughi cinesi. Avesse detto dei profughi tibetani, ma dei profughi cinesi credo che non ci sia traccia al mondo. A dir la verità è difficile trovare traccia anche dei cinesi in città, pur essendo una presenza numerosa ormai. Sembra un po' che facciano vita a parte. Ho capito, ancora sta città. Allora però, Terasso, mettiamoci d'accordo. Torniamo a darci del tu e non mi ponga sempre su un terreno scivoloso, se no corriamo questo di precipitare a valle. Lei che è carnico sa cosa vuol dire. Certamente, questa è più che una domanda, è un assist. La città subalterna alla Trieste rinascimentale, perché ultimamente, proprio il Corriere della Sera, ha detto che, con un titolo a tutta pagina, il rinascimento Trieste. È un concetto che evoca il ricordo delle municipalità, dei comuni. Soltanto che Trieste non è solo un comune, è anche Unuti che raccoglie i comuni limitrofi, i comuni sloveni, che sta per diventare un terminal importantissimo nell'economia internazionale, con la famosa via della seta. A proposito dei profughi cinesi. A proposito, mi sembra che questi siano profughi di lusso, però a questo punto più che profughi sono compratori, che hanno già ipotizzato l'acquisto di ampie zone e di mettere mano pesante nella gestione stessa del porto. Quindi ci si appaiono davanti degli scenari che sono interessanti da un certo punto di vista, ma anche preoccupanti. Se il concetto di Friuli è quello di retroporto, se il concetto di Friuli è il retroporto, Udine cos'è? Una cabina di pilotaggio? Cervignano la cabina di pilotaggio. Cervignano avrà già i suoi problemi, a proposito di problemi, i collegamenti con il nuovo aeroporto, i collegamenti della stessa Udine, pongono la viabilità, i trasporti, credo al centro del nostro dibattito. Oggi sono fondamentali arrivare da Udine a Milano, è già un'impresa. Ferrovie ha messo anche un carico, ci fa arrivare anche a Santa Lucia, e aumenta il percorso. Anche perché lei sa benissimo che a Mestre si cambia. Sì, una volta si cambiava, adesso si cambia a Venezia, e quindi a Santa Lucia, quindi 12 minuti più. Questo è il grande risultato dell'amicizia profonda che lega l'ex presidente Serracchiani a Ferrovie italiane. Grande risultato. Benissimo. Udine, città dell'Uti. Dell'Uti? Sembra un cognome dell'Uti. No, no, no. Non entriamo neanche... Non ne ceda, non ne ceda. Non ne ceda. No, io sono personalmente per l'uscita della città dall'Uti del Friuli, del medio Friuli centrale, perché quello che sta comportando l'adesione è un sminuire continuo dei servizi offerti sia ai comuni limitrofi sia alla stessa città. L'esempio dei vigili urbani alle dipendenze delle Uti è di fronte agli occhi di tutti i cittadini. È inutile che si dica come fa Martina e sprovederemo. Il risultato è che abbiamo 67 vigili urbani impegnati in operazioni diverse da quelle della gestione cittadina e, come dicevo, il risultato è davanti agli occhi di tutti. Ho capito. Sabato scorso Fontanini ha chiuso il portone di Palazzo Belgrado. Qui giace la provincia. Però ha detto è un arrivederci. Secondo lei è un addio, un arrivederci e cosa ci si può aspettare dal punto di vista istituzionale? Ecco, io credo che la chiusura voluta sempre dall'ex presidente delle province sia stato non un errore dal punto di vista dello studiare un nuovo assetto istituzionale della nostra regione ma sia stato il suo farsi veder bella nella direzione nazionale del PD portando in omaggio la chiusura delle province cosa che poi non è avvenuta nel resto d'Italia. Anticipando una cosa. Anticipando, siamo noi i primi. Noi più bravi. Io sono la più brava un discorso che faceva spesso e che non gli è andata bene visto che è risultata eletta soltanto grazie al fallimento della lista Bonina a 24 voti ma questo è un discorso che ormai appartiene al passato. Io non credo sinceramente che si possa tornare alle quattro province in regione. Credo sia necessaria un come dicevo prima un fermarsi un ragionare e vedere che assetto poter dare. I nomi poi sono diversi. Certo è che il Friuli deve pensare a una sua ricomposizione in termini di area vasta e di identità evidentemente. Anche perché gli attacchi che arrivano diciamo dal vicino Veneto all'unità storico friulana rispetto alla provincia di Pordenone sono pesantini. Non ho capito ma lei crede in un Anjlus con Zaia alla testa delle truppe venete che vengono a conquistare il Friuli Venezia Giulia. Sì si crede? Fondamentalmente sì credo che la figura di Fedriga sia una figura mediatica che dal punto di vista di rapporti di potere Zaia conti molto di più anche perché non ha solo la lega dietro in Veneto ha le organizzazioni della Confindustria un seguito tutto Veneto che lo fa pesare dal punto di vista economico proprio rispetto alla nostra regione e come si diceva prima uno sviluppo di Trieste una pressione dall'altra parte portano ad essere compresso il Friuli in una situazione la definirei grave. Ho capito Udine del resto se mi permetti solo un'aggiunta a questi tentativi anche rispetto alla Camera di Commercio di Treviso con Pordenone è stato un piccolo dibattito sia di Industria sia della Camera di Commercio comunque sono segnali questo indubbiamente beh ma secondo me Agrusti è capace di fare la politica di due forni quindi sappiamo perfettamente che a non Falcone strizza l'occhio a Bono e di là strizzera l'occhio a Zaza certo però sappiamo anche che il pane si fa in un forno solo dopo la fine ho capito oppure si fanno due tipi di pane Udine città questo è ancora più grave perché questo significherebbe che i due panifici si dividono la torta la politica e l'arte dell'impossibile Udine città friulana o città del friulano? Beh non credo che ci sia differenza no contraposizione no infatti nel senso che io proprio in un dibattito recente che chiedevano il ruolo dell'Università di Udine ho chiarito subito guardate che questa è l'Università del Friuli e ha il suo specifico essere sappiamo tutti le lotte per l'Università la legge sulla ricostruzione che l'ha voluta per un determinato scopo non credo dopo 40 anni che questo scopo sia stato raggiunto non aver raggiunto quello scopo specifico ha portato secondo me nell'ultimo periodo ad un impoverimento dell'offerta dell'Università stessa una mancanza di attrattiva dell'Università e c'è il calo degli studenti e in previsione rispetto proprio al discorso che facevamo prima di attrattività anche di Trieste nel suo complesso io ho una grande paura che torni la vendetta e che in qualche modo si vada ad un accorpamento dell'Università con Trieste si sente un po' assediato assediato il Veneto Trieste l'Austria mi sento nella funzione di liberatore liberatore di tutte le energie necessarie in questo momento a capire prima di tutto perché questo è importante io credo anche capire cosa sta succedendo con un'analisi seria e sapere come replicare se vogliamo ancora che esista un concetto di Friuli e che esista è un concetto di Udine non solo capitale del Friuli ma di una città capace di esprimere ancora qualcosa di diverso dal resto delle altre città del nord ho capito alleggeriamo un po' la cosa io ho visto il suo programma e non so quanto quando Terasso dice alleggeriamo arrivano i carichi non so quanto centri Orwell ma lei ha un punto che si chiama la città degli animali provi a spiegarci questa cosa nel senso che alcune che non sono iulinesi no 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 ma però credo che ognuno di noi girando per la città proprio veda tante persone con i cani in giro questo è un segnale della società anche che andrebbe anche questo analizzato perché il problema principale della nostra regione del Friuli in particolare di Udine è il problema della natalità e molte volte l'affetto viene cercato è un problema enorme che non credo trattiamo qui certo che però per queste persone per queste persone che trovano non dico conforto ma che trovano l'amicizia con i piccoli animali destinare dei luoghi adatti al loro stare bene sia importante come del resto è importante senza entrare nello specifico delle proposte che alcune zone vadano proprio destinate a questo star liberi degli animali con tutte le accortezze ed evitando anche figure penose che ci sono ancora in giro nella città quando cammini ho capito tanto per essere chiaro no no è molto chiaro ed usando un linguaggio restiamo restiamo sul leggero e anche sul tenero perché Andrea Valci c'è anche un tenerone la città di Romeo e Giulietta ebbè è un'occasione è un'occasione perché tu saprai che ci sono già diversi studi sulle origini friulane di quello che poi Shakespeare raccontò lasciare il tutto a Verona che ha costruito un pezzo della sua fortuna turistica e non approfittare di occasioni del genere mi sembra sì sbagliato cioè possiamo farlo come del resto lo possiamo fare su tante mille altre cose che se andiamo a studiare la storia di Udine ritroviamo per esempio da citare la luce vabbè ma quella è un classicone soltanto che è stata oscurata mi sembra nell'ultimo periodo anche questa cosa permettetemi e io vedo magari hanno risparmiato con le luci a led ma mi sembra più scura più buia Udine ultimamente ma quella del Magliani credo sia una cosa talmente logica avere la possibilità di sfruttare permettimi questo termine le nostre eccellenze la storia delle nostre eccellenze e farne un prodotto di richiamo è il minimo un marchio un marchio la città del tiepolo quello se mi permetti è il minimo sindacale come del resto e io ci tengo molto a questa nostra proposta che ho detto se vinciamo le elezioni e faccio il sindaco la facciamo partire subito ma credo sia una cosa che possa essere mi auspico adottata anche dagli altri candidati quella del del Museo Nazionale della Protezione Civile nella sede dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco secondo me è talmente semplice nella sua proposta ci vuole tempi studi per realizzare non soltanto una cosa statica un museo moderno ma provate a pensare una volta realizzato quante migliaia e migliaia di studenti di classi da tutta Italia ma anche dalla vicina Austria e dalla Slovenia verrebbero a visitare un museo unico in Europa e cosa vorrebbe dire dal punto di rivitalizzazione di tutta la zona attorno alla stazione con una sezione dedicata al sismo al terremoto al 76 allora l'idea non è male una delle cose che insisto è andiamo a cercare veramente le cose oggi come oggi come stai sul mercato se sei unico in qualcosa allora è inutile che vengano a parlare il Friuli unico esempio di ricostruzione qua è nata la protezione civile usiamolo questa cosa qui ma non soltanto dal punto di vista del guadagno dei turisti che arrivano usiamolo proprio per esaltare determinate qualità ti dico anche una cosa che abbiamo lanciato per ribadire il concetto che non è solo un progetto è un progetto nostro ma che offriamo alla città chi la governerà abbiamo lanciato una petizione appunto perché chiunque sia sindaco porti avanti questa iniziativa è l'altra cosa che vorremmo e lo faremo se i cittadini decideranno di votare il patto per Udine dedicarla intitolarla al generale degli alpini Rolando Parisotto che di fatto nei fatti ha costruito la protezione civile in Friuli e poi a livello nazionale la vocazione di anatomo patologo di Andrea Valcic è chiara gesti scaramanti è chiara nel suo programma il cuore della città è via mercato vecchio il polmone della città è piazza primo maggio due idee allora tu sai che l'idea trainante io direi proprio quella destinata a sconvolgere in senso positivo la città con un progetto grande e che nel suo essere arriva a coinvolgere praticamente tutte le realtà non soltanto quella della viabilità è il tram che parte dalla stazione molti ci chiedono con che soldi lo paga l'Europa perché è l'Europa che sta insistendo con per città del nostro del nostro la mobilità sostenibile è il polmone di d'altra parte l'Europa con tutto quello che ci ha chiesto sarebbe ora che pagasse visto che l'Europa ce lo chiede allora se mi permetti una battuta in una prima stesura avevamo messo l'Europa ce lo chiede poi abbiamo detto che porta sfiga e non l'abbiamo ho capito l'Europa ce lo paga va bene avanti che suona meglio avanti piazza primo maggio io direi che il parcheggio sotterraneo è in funzione e credo sia anche una cosa positiva riconoscere anche le cose fatte bene va secondo noi esaltato il ruolo del castello appunto tra l'altro con il museo del Magnani ma mettendolo e questa è una cosa che si può fare subito si mette a posto i tracciati che vanno verso piazza primo maggio che sono in una situazione basterebbe qualche buon giardiniere del comune se ci sono ancora se non sono anche queste date a ditti o a ditte esterne una volta arrivavano gli stradini del comune a mettere a posto le buche oggi bisogna fare domande non arrivano quelli dell'utti perché sono impegnati in altre situazioni un grande polmone verde permettimi di definirlo un piccolo central park cioè nel senso in cui la gente piccolo però sì sì piccolo non bisogna esagerare però già avere questo polmone dal punto di vista ambientale sarebbe un grande successo e una grande possibilità per tutti noi che abitiamo a Udine ma lo vedo anche come momento di ricreazione dove la gente possa con acqua cioè rendiamoci conto che i punti verdi i polmoni verdi della nostra città non ce ne sono mica tanti e in una situazione atmosferica in cui il caldo la farà sempre più da padrone ho capito sento una cosa quanto varrà la presenza di ceccotti per il risultato del patto sia in regione che in io spero tantissimo sono sicuro lo state portando come una madonna pellegrina in giro dappertutto ma è contento è contento sì poi torna anche a Trieste a insegnare perché non perde le lezioni questo credo sia un bel segnale a tanti per tanti politici la cosa che la prego nel senso che sono sicuro che varrà perché girando per Udine quando lo incontrano la gente si ferma con lui e dice ah se tornasse lei io devo dire che è candidato alle regionali il candidato si è detto che annullano la scheda io credo che non sia soltanto un valore aggiunto sia diventato in questo momento il simbolo di quella riscossa che è possibile ti dico aggiungo anche una piccola cosa in privato i vertici di molte non faccio nomi di molte associazioni dicono l'unico in grado di salvare questa regione è Cecotti lo dimostrino e lo dicono pubblicamente ho capito benissimo era Andrea Valcic candidato sindaco qui a Udine per il patto per Udine il patto per l'autonomia grazie per essere stato qui ci vediamo agli scrutini forse anche al ballottaggio benissimo arrivederci a tutti grazie a tutti mandi a l'unico in grado a unico in grado a unico in grado per l'autonomia o a a unico in grado per l'autonomia